Non faccio frasi a effetto che possono tornare indietro, si ferma qui, non esiste bis, ve lo dico ora. Non esiste bis, si ferma qui, è l'apice, perché l'apice è la rivoluzione personale. La rivoluzione personale che è quella lì che polverizza il superio. Se guardate la lucandina nella quale mi hanno inserito questa maglia dell'Unione Sovietica, è la polverizzazione del superio. Una rivoluzione prettamente personale e non collettiva che passa per la riscoperta delle proprie influenze e della propria educazione. Io sono spogliato di tutto, ho polverizzato il superio e ora ascolto di nuovo Nino D'Angelo. La mia rivoluzione è stata ritornare a Nino D'Angelo, perché grande poeta, grande poeta, neomelodico, è stato lui che lamentava, lasciate perdere i camorristi, Nino non aveva nulla a che fare, io lo proteggo, caschetto biondo, meglio di Caterina Caselli, è il nostro caschetto biondo. E Nino D'Angelo mi ha fatto capire che cos'è la rivoluzione e io ve la faccio ascoltare, la nostra rivoluzione. E con questo vi saluto e vi ringrazio di essere stati qui, a gratis soprattutto, ringrazio a gratis. Lo faccio con passoni, l'abbiamo detto prima, e non faccio con passioni. Allora, la nostra rivoluzione è un pezzo che io scrissi apposta per i Poetry Slam, non so se li conoscete, penso di sì, avete visto i Poetry Slam, ed è a differenza della spiritualità, il cui cammino non è time limit, delle rivoluzioni dovrebbero esserlo, perché se no dopo ti rattrappisci e non ne fai più. Allora, la nostra rivoluzione dura solo tre minuti, tre minuti, tre minuti per ricusare un ultimo applauso, prima di dormire, mentre manifestano e fanno barricate, un guaglione e una guaglione, con una bomba a mezza in mano, se guardano a mezza la folla, gente che si vota in gola, la speranza che si scolla, io, ma mi ha martello in bietta, è nullietta fatta le spine che mi accoglie a tarda sera, ma ricorda che è molto buona, ma soffre ancora per quello che era, ma veca nera. E' nella notte che mi sorprendo con le mie vertigini, come posso accarezzare ciò che mi dà i lividi, come posso accelerarsi alla lunga zooppico, so bagnare bene i solchi del mio viso arido, brividi vividi anche per gli androidi, che pur non piangendo rilasciano fluidi, a poesia, a poesia fatta di ossa, carne e sangue, quale parole? Le parole sono carne tristica, non volo manco Gesù Cristo, perché dovrebbe volere a questo branco di cani, silenti ma irrequieti? Cyber, 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 cyberattacca, moz che pac, virus in Asia, in Iran, in Iraq, hacker, ping pong, manna sprang, sfondasso ucrania, crew versus gang e tornano, tornano guaglione una guaglione con una bomba, mie semane, se guardano in da la folla, bomba, la toia, bomba, la mia bomba, sarà una poesia, un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, Nino, 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 che ti parte la voglia di ballare Nupite namaiet Mi fermo qui perché il ragazzo sul ponte impotente si feri, taffetta ferui, sul ponte impotente si feri, taffetta ferui, gli possa prendere pie del panico, possa prendere pie del panico, possa prendere i piedi 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 del panico, possano le sue ossa, comprenderne il fuoco. Possa la sua anima capire il proprio moto, possa l'inorganico generare un ruoto, possa questo pezzo contribuire al vostro ruoto. Resta un minuto, solo un minuto, per ricusare quel maledettissimo applauso che distrugge ogni minuscola verità artistica e poetica. Il ragazzo sta tentando di innestare nella mente della ragazza l'idea della rivoluzione, vorrebbe sganciare una bomba all'idrogeno, è vulcanico, erutta il panico, si sfonda il timpano per l'urro malinconico, si muove avanti a lei come le onde del Pacifico, la sente addosso come il sale dell'oceano, ed io, io resto sospeso nelle allucinazioni, ansimo, separo il sale dalle gocce, rendo il pane asimo, mastico, abulico, noto il mio corpo plastico, brulico nello spazio come un missile balistico e anacronistico, vedo un futuro atavico, ma non ci casco, non mi conosco, sono self-agnostico, e mentre mi assopisco, crolla la corazza, dunque partorisco come ogni sera la ragazza, è sistematico, il mio sito a sguardo asiatico, pensiero radar, palindromico, un giglio di atomico, ma non c'è più tempo. La ragazza svanisce nei sogni e non resta che la realtà materica in cui non si è ancora pronti per la bomba. Stasera qui, a Vimercate, non c'è un corpo da accarezzare, solo un oggetto su cui lasciare delle impronte. Come tutti. Stasera qui non resta che la scia di un pollice. Domani magari immaginerò ancora una volta la nostra rivoluzione. Grazie, grazie Davide, grazie Lab.